Allora Sindaco, buongiorno. Oggi avete fatto il primo incontro con la città metropolitana per rifericare i progetti che possono essere finanziati dal piano strategico. Un incontro proficuo e chiarificatore. Diciamo la buona politica e soprattutto la buona amministrazione anche da parte della struttura dirigenziale della città metropolitana. I complimenti quindi a loro e al Sindaco De Magistris per il lavoro svolto e soprattutto per gli input che hanno saputo dare a questo riutilizzo dell'avanzo di amministrazione. Voi siete in contatto col territorio quindi avete già delle idee, sicuramente avete già ipotizzato dei progetti che possono essere finanziati? Assolutamente sì. Io ho l'occasione per ringraziare la struttura dei lavori pubblici dell'Ufficio Comunale dei Lettere coordinata dall'architetto Ciro Sannino perché abbiamo già vari progetti esecutivi e definitivi pronti per candidare. Faremo una scelta oculata una scelta oculata che ci permetta di crescere come territorio in sinergia con la città metropolitana considerato che molte arterie del nostro territorio sono di pertinenza della città metropolitana. E un'ultima cosa, negli ultimi anni, sono quattro anni che una maestra è costituita la città metropolitana, si è vista sempre una scarsa partecipazione dei sindaci. Ritiene che questa nuova definizione del piano strategico possa essere un'occasione di incontro? Direi proprio di sì, dalle ultime riunioni, l'altra volta c'è stata la conferenza e la presentazione, poi i vari incontri che si stanno succedendo nei giorni sono la prova concreta e tangibile che siamo passati al piano bio, alla politica del fare, la compartecipazione e la sinergia di tutti i territori, di tutte le amministrazioni e anche la struttura dirigenziale della città metropolitana, come ho detto prima, per far sì che territori, faccio l'esempio della città di Lettere, la città di Lettere con un castello medievale riconosciuto anche dagli scavi arcologici di Pompei, potrà oggi coordinarsi con la città metropolitana, considerato che la strada di accesso che porta al castello medievale è di pertinenza della città metropolitana, per far sì che città metropolitana e comuni di Lettere possano portare dei risultati importanti per tutto il circontario.